bene lei è il signor Laperchia Girolamo si Laperchia sono io dottor e cosa fa cosa fa perché sono qua perché sono disoccupato dottor non tengo lavoro sono venuto per questo colloquio e a prole? eh? a prole dico a figli ah si un prolo e una prola un figlio e una figlia eh si è io che ho detto facciamo così entriamo subito nel vivo e le faccio una domanda tecnica una domanda? tecnica lei sa dirmi che cos'è un campione di urine? un campione di urine? si lo so allora il campione di urine è quello che fa la pipì più lontana la sapiamo questa la faremo sapere grazie ah da dove andare? grazie dottor mi raccomando arrivederci buongiorno